Ciao, benvenuti in un video svuota la spesa, questa non è la spesa mia, è la sua, allora se vedete un po' di cose scambiate, tra virgolette, vedete qui tutto il bianco perché noi igienizziamo con l'alcol a 90 gradi, ci passiamo una bella pezza sopra e quindi è tutto apposito perché quando vado verso il mercato vedo cose assurde, mi vedi un po' così e poi toccano le cose quindi io, perfetto, ok, allora lasagne all'uovo delle miliane, queste mi piacciono tanto ma devo dire la verità anche le garofalo sono le mie prefi, insieme a queste, due di questa, due di questa, siamo troppe persone, poi, 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 sempre per la lasagna la besamella che tu non ami, non è che non amo, mi piace poca, quando è troppo, mi fa un inusenso, si nasce, poi, qui ci sono dei succhi di frutta della yoga, sei, uuuuh, mi sto scordando i succhi di frutta, sono un'offerta, un euro e cinquanta, qualcosa, perché ho preso nei suoi prefi, sono buoni, allora, io odoro questi qua con la cannuccia a pera, ho preso quelli la della Doria, ma non so niente, sono di acqua fresca e zucchero, sono di acqua e zucchero, infatti, invece queste sono buoni, hanno il 70% di frutta, ma sono pure andata, vabbè, ce l'ho fatta, ah, queste, io e mia sorella ci facciamo le scorpacciate la mattina, fatemi a muoio uno snack, se non faccio presto, ti mangio il tuo mani, quindi, queste sono come le castagne lesse, ma in realtà sono pronti a muoio, di cui io vado giù, c'ha proprio, hanno proprio lo stesso sapere, vabbè, le castagne lesse, di acquare, morbide, buono, castagne morbide, come viciariello per me, che mi affogo, brava, ah, ok, poi qui della Mellin, coniglio, coniglio, e come ho mai preso la Mellin, io non ho preso la Mellin, ok, sì, te l'ha messo lui, me l'ha messo così, poi, qui abbiamo, ah, i miei prefiprefi, questi li ho presi anch'io, dei lamonti, ciliegini, questi sono i pomodori, ciliegini, questi, ma non c'è ancora, forse tu hai datterini, no, 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 buono, i datterini, i datterini sono finiti da una vita, e ne ho presi anche altri oggi, questi, adesso non c'è ancora il basilico, ma quando metteremo il basilico in giardino, questa, tipo come la pasta al comodoro fresca, ci mettete il basilico e, a fine del mondo, e poi dobbiamo preparare anche le consente di pesto per le bambine, quindi, eh, ma per le bambine, più che altro per noi no, perché, eh, dobbiamo vedere se ci riesce una bella piantona, tipo io ho messo il basilico l'anno scorso, tutto il periodo del basilico non mi ha fatto una foglia di basilico, pochissimo, che era settembre, ottobre, che di solito muore, diventava un cespugno enorme, ma vabbè, ah, questa, questa mi piace, però mi dimentico sempre di prendere, sapete, quelle cose che, quando non c'è niente in casa, praticamente questo è prosciutto e carne suina, noi la facciamo in padella, eh, tipo cotonette con l'uovo, impanate, hai capito, impanate con l'uovo, no, assolutamente crudo è questa per me, mangiabile, no, potete farci pure tipo un, allora, la impanate, la friggete, ok, poi al centro ci mettete il prosciutto, la sottiletta, la mettete un'altra sopra, la rimpanate nell'uovo, c'è un'altra cosa che viene, e vi ricoverate con il grasso, no, è buono, però è buono, è buono, è buono, oppure senza impanare le due volte, fare un sandwich, diciamo così, e poi la vai a impanare e lo friggi una sola volta, simmetà, la simmetà, questa Noemi vaghiotta, io, no, ma quando ero più piccola mi piaceva, adesso è cambiata pure la simmetà, pure di burrodo, vegetale, questo mi piace, sale tipo questi quando fate qualcosa in padella, tipo una saltata di velo, meno il 25% di sale, sì, per esempio a me questi non piacciono, non ti piacciono? no, perché? ma non lo penso, poi, Philadelphia, devo fare una cosa per l'antipasto che vedete a Pasqua, a Pasqua, a Pasqua, non lo so, vabbè, quando faremo le cose di Pasqua, a Pasqua, e queste qui, vabbè, poi nel nostro figlio, Dvigo, sia tuo che mio, non mancano mai, perché ogni tanto poi le accompagniamo al salmone, con l'avocado, sì, a volte prenderò al normale e me ne riempio di fratello, queste filadefine non arriveranno a Pasqua, vedo anch'io, e devo consumare la scatena, stasera, poi altro tacchino, non so perché il tacchino, prima quando glielo dò a mia figlia, allora la fotografis tu tacchino, fa leggermente impressione, inquietante, raga, inquietante, vero, mi sembra un bordoio, comunque, poi, formaggio, 100 grammi, viraghi, viraghi, che si apre, si chiude, io invece oggi, io oggi ho grattugiato nel bimbi, il formato che l'acomo prendi anche sempre tu, è il pezzo di parmigiano, perché non riuscivo a trovare, avevo comprato un contenitore apposito, per il frigo, che non trattiene di odore, il pulso, tutto cosa, e l'ho trovato, l'ho grattugiato stamattina, e non mi ho messo, però anch'io, c'ho sempre una bustina di questa, si è comodo, nell'altro mio svuoto alla spesa, quello dell'MD, ne ho preso una grossa, enorme, non sa, io sono, come l'ho detto, sono un po' impicciosa con il formaggio, sa poco di sapore di formaggio, diciamo così, mi piace utilizzarlo nella pasta, nelle cose, diciamo che quando ho il formaggio parmigiano, non è il vero parmigiano, fila nella pasta, e quindi a lei mi piace, no, ma vuoi pure il sapore, si cambia, ma infatti io per me, prendo quello da 24 mesi, faccio esempio, prendo a me che quello da stagionato 30 mesi, cambia totalmente, no, io prendo questo perché mio marito, su un suo piatto, si mette 50 grammi, di formaggio, quindi se è per due piatti, prendo questo e quello, zucchero, zucchero, per il marito, perché ho preso una nuova macchina, per il caffè, la dolce e gusto, che bella, la voglio anche adesso, perché le capsule, sono molto più fighe, ci sono molte più cose, queste che sono le capsule di starbucks, hai capito, ho già catania, io per questo, come si diamo? dove è il caffè, il dolce e gusto? amazzonati? sì certo, amazzonati a tutto, no no no, amazzon tutto, da poco ho pure Maria Durni, il tuo libro, il mio libro, si, amazzon tutto, amazzon ho messo anche il pagamento, con coffee di starbucks, si vuole proprio distruggere, amazzon, ah belli questi, questi sono gli gnocchetti, gnocchi sardi, della carofalo, gnocchi sardi della carofalo, sono buonissimi, li fanno uguali, la barilla, e anche il marchio di cu, però, allora, la pasta carofalo, è la nostra preferita, uh, che sono belli, gnocchi di lupo, questi li fate con il sugo, come vi ho detto, quelli licidi e gini, così, li potete fare con i funghi, i fagioli, e cozze, i fagioli, basta, i fagioli, e cozze, li potete fare con, vi stavo dicendo, i funghi, la salsiccia, che si impiglia un po' di macinato, di salsiccia all'interno, be' formato, una bella grandezza, media, e ideale anche, anche se avete dei bambini, non aspeggio a Noemi, si, in casa, è ottimo anche per i bambini, o del più santo, senti, io sono inquietata su Instagram, io ho visto bambini, dell'età di mia figlia, a cui gli danno i maccaroni, così, l'anno svezzamento, hai visto, ma che lo so, ma come fai, io non mi ammuffo con quei cosi, ma non hanno idea, cioè, sono con quei due denti, che fai, come fai a masticare un, ma di se, otto mesi, in un maccarono, così, no, senza scherzare, a Noemi, come le pennette, della, della barilla, le mezze penne, quelle, fanno degli assaggini, perché, io mi cagerei addosso, che, non so, non so, a fuoco, l'anno svezzamento, discorso, molto, vabbè, cambiamo, non ci interessa, di questi bambini, eccetera, eccetera, questo è aperto, perché è passato il sorcino, ed è, ha fatto il sorcetto, ci vogliamo fare un sorcetto, dopo, con gli stessi, ce lo facciamo, ok, no, amore, io mi porto quella là, senza caffè, in un, che sto danno in un morano, sì, sì, poi abbiamo, l'inzonnia, l'inzonnia, però voi sentite un po' di inzonnia, ogni tanto, a me mi viene, nel cambio, specialmente, quando mi viene una volta, l'allergia, così, e secondo me, devo cambiare l'antistaminico, oggi non l'ho presa apposta, l'antistaminico a volte può portare, anche un po' di da chi, no, quello porta la sonnolenza, di solito, però questo che mi aveva dato il medico, non portava la sonnolenza, ma, non puoi fare un mucchio, quindi, non l'ho presa, lo prenderò, quando sto muretto, di nuovo, perfetto, bellissimo, salviette, imbevute, queste qui, sempre servono per la Jasmine, questa marca è buona, con l'olio di Argan, e aloe vera, non so male, non so quanto costa, non ve lo chiedete, nice baby, c'è sicuramente di meglio, ma comunque, questo è quando finiamo i dischetti struccanti, con un po' di acqua miscelare sopra, no, è fantastico, la salvezza, un'altra di Mutti, la sorella gemella, burro, questo qui della Granarolo, che personalmente, mi piace molto di più, rispetto agli altri burro, anche quello di della parmigiano, è buonissimo, questo è quello, mi piace, sono i miei top, sapete quando ve ne rendete conto? Siamo Lucia, Siamo Lucia, non ha lo stesso profumo, quando, sapete quando me ne accorgo, quando lo mettete sulla fetta biscottata, tipo burro e marmellata, questo, mi piace, si, 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 molto di più, ricotta, ricotta, Santa Lucia, questa la prendiamo sempre per cucinare, mi sembra per la, si, si, per cucinare, per la rasagna, esatto, di solito la mettiamo, no, non la mangiamo così, che se no prendiamo quella di cestino, che è più buona, perché è secca questa qua, da mangiare assoluta, c'è così, poi, valfrutto al vapore, ne ho prese due anch'io, perché, sia io che mia sorella, amiamo, i legumi della valfrutto al vapore, non l'ho mai provato io questa qua, al vapore, te l'ho mai provata, si, è buona, non come la mucca e la cirio, però, l'ho detto, mi piace, la pomì, ok, come la pomì, la sono festa, come la pomì, come la pomì, si, però mi piace tantissimo la cirio, la cirio col tappo blu, e la mucca, la cirio, la pasta da mirace, e la mucca, e su un poco, poi, che hai preso tu qua, pepsi, zero zucchero, io ho preso, eee, ho preso quello zero zucchero, e qui la pesta, io ho preso quella, zero zucchero, zero caffeina, oh, ah, un'altra pepsi, e per ultimo, no, che per ultimo, sto con un'altra roba, ah, e poi, qui abbiamo, ah, giusto, alluminio, dimmi che l'ha preso per fare i carciofi, tu morito, con la speranza, una volta, mio cognato ha bussato la porta, mi ha detto, Fatima, hai dell'alluminio, a me brillavano gli occhi, perché mio cognato, facerti carciofo arrostuto, sulla brace, con l'alluminio, che sono buone, io ci ho provato una volta, sta morendo, bruciata, i carciofi, crude, brutte, senza sapore, un giorno dovrò imparare da lui, come si fa, comunque l'abbiamo bussato, comunque l'abbiamo bussato, questo perché, assolutamente si, assolutamente si, assolutamente si, assolutamente si, per pass questa, per pass questa, sta dal rostro, a me puzzo, poi, i carboni non li abbiamo presi, e l'ho detto a mamma, vabbè, dobbiamo prenderli, poi, ah, ok, per, vabbè, i quantitativi, ne abbiamo presi quattro, ne ho presi quattro, poi, aspettate, E lì, olio di stemi, di giratore, usiamo sempre questo, per la gioia del nostro, per il ferrolo, per frizzere, uova, ma abbiamo preso, uova, 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 è scattato l'uovo, è rotto l'uovo, serve a mano a me, io per questo, uova, l'iovo, che come pezzatura, come pezzatura, diciamo, avrei, aspetta, ma come fanno, madonna, tanto a plastica, e poi, questo è il primo, magarella, ha cagato, che schifo, voglio, sta cagata la gallina, un gocco, wow, sta, sta una cacca di gallina, che schifo, se questo la cacato, proprio sta male, sì, ok, questo, questo è intero, ma non mi testa gallina, se potremmo, è una sensuosa, ah, 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 a gallina, questo è io, se non ci interessa, lasciamoli così, tanto questo, dopo dice, questi sono per mamma, che deve fare la tastiera, se lo sbaglio a lei, no, secondo me, l'uovo di prima, che era rotto, era in un'altra confezione, ma basta, stai, perché sei un indigio, questo è cagato, non lo voglio toccare, io invece ho preso le oe, bianche e fresche, è bella, dalla patatina, che si riformisce a mio marito, e le devo prendere anch'io, perché lo voglio fare una alla coca, perché servono le oeva fresche, per farlo, e da una vita che non lo fai, tutta è integra, comunque, no, ma che stai veramente, questa gallina, non è rubita, eh, è inquietante, so, ma io so fresco, ecco, poi, 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 sì, sì, non si esce, non si fa questo, ci hanno chiuso questo, il lavoro, l'abbiamo perso, alcuni, con fine, non ti ubriaca, non prendi la nesta azzurra, eh, eh, due, due, smagli che vuole, comunque sì, a parte tutti gli schemi, ah, stasera voglio ubriacare, perché, avevo, se è una sussi, si vuole un po', avevo preso, l'antistaminico, sempre perché, vabbè, io ipocondriaca, non mi bevo un goccio di bilio, se prendo un antistaminico, dopo 25 ore, troppe ipocondriaci, ya, calmatevi un poco, ora il covid va via, siamo tutti più tranquilli, se lo dici tu, poi, le ultime cose, sì, le ultime cose, spaghettini numero 3, che io non so quanti ne tengo, nel, io secondo me ne dà capare, ma sono più buoni, a me mi piace, ma per che nessuno ci piace, il numero 3 con nessuno, sono troppo sottili, so come un mese a fuoco, no, non è vero, si spagliano in bocca, spagliare, sono spagliare, e questi qua si usano per fare la pizza di pasta, e poi abbiamo preso del macinato, questo qua, giusto un po', giusto un 596 grammi, per la somma, pensate un po', e niente, adesso abbiamo finito, la posiamo questa spesa, spero di questa vuota la spesa, vi abbia tenuto compagnia, fateci sapere che cosa, cosa ne pensate, specialmente della gallina, si sono fatte della gallina, che ma, la prima volta che ho visto un uovo così, no, io ho comprato altre uovo, non ho avuto a contattare, in realtà non l'ho comprata, io l'ho preso celeste, che tenevano proprio una penna dentro, a vero, la penna l'ho vista anch'io, ma tutta questa, escremente incrustata, grazie, grazie, wei ragazzi, noi ci vediamo al prossimo vlog, se vi è piaciuto, questa spesa, se vi è piaciuto la spesa, spoliciate, thumbs up, noi mandiamo un bacione, e adesso togliamo, le cose da qua, perché mamma deve passare i cassatelli, e dopo me lo rompe, i cuglioni a me, ancora, ancora devi tagliare, ma sarampo la nota, 10 minuti, ma guan son lo, 10 minuti to,